musica 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 oh marocca oh bella si dai guardi di sole è già alto i nuotori hanno già fatto 20 Kg di nuoto come? eh di una piscina è piena noi andiamo in fisi facciamo l'intervista dai eh senza questo ricambio dai oh ma raga se vuoi fare le cose fatte bene te lo ricordi? alla mattina ci si pesa devo pesare anch'io? ah no? va bene ehh con te quanto sei? io 66 ci siamo? vado eh 82 e mezzo nel giorno di riposo cos'è che ma si parte yogurt yogurt bianco ovviamente senza zuccheri una mela che una mela al giorno toglie meglio di torno poi cosa abbiamo qua? qua ho dell'uvetta invece di mettere lo zucchero mi piace mettere un po' di uvetta almeno sul tainan sul tainan banane? banane banane queste no queste te le ho appena rubate dal tuo vassoio perchè abbiamo provato a fare il furbo al buffet prima aspetta che l'allontaniamo e? succo d'arancia prima vitamina c pura qua in altura è importante che non manchi mai e latte di soia? latte di soia si perchè sai quello normale avendo lattosio e molti zuccheri cercando di stare più forteci il latte di soia ovviamente ti va a battere tutto questo apporto calorico quindi si lavora a basse frequenze nel giorno di riposo è importante limitare i carboidrati formano gli alimitati decisamente non ci sono quasi proprio guarda no ma sono noci guardi bene sono tre noci anche ah ok quindi frutta secca proteina si dai ho capito poche eh? poche Davide ma qual è la differenza sostanziale tra un corridore che deve fare classifica a un grande giro a uno che non la deve fare uno che corre in appoggio in aiuto ma penso che alla fine sai la differenza sostanziale è questo ritiro anche questi ritiri in altura perchè sai per noi è molto importante agli ultimi tre giorni avere ancora energia energia e per riuscire ad arrivare gli ultimi tre giorni più freschi possibili appunto siamo un po' siamo portati a soggiornare qua in altura per lunghi periodi quindi diciamo che un corridore che fa classifica i grandi giri fai non hanno molti più giorni di altura di un altro corridore sì per noi è fondamentale appunto da vedere dove sono ora tutti i competitors chi è qua in Sierra chi è sul Teide chi va in Sudafrica chi va in Colombia siamo tutti lì il calendario è quello nel corso degli anni da professionista ho incontrato tantissimi corridori ho conosciuto tanti uomini da corsa a tappe io ho notato che in tanti c'era questa costante ricerca nel fare sempre quel sacrificio in più che magari voleva dire mangiare i due maccheroni in meno fare i cinque addominali in più in palestra quella ripetuta di forza in più in allenamento però a questo punto avevo l'impressione che lo facessero più per sentirsi più forti mentalmente che fisicamente cioè quando uno sa che ha fatto quel qualcosa in più magari di un altro si sente più forte mentalmente ma sicuramente sei una grande corsa a tappe l'importante è non mollare mai di testa siamo in tantissimi buoni corridori con dei valori assurdi non alla partenza la differenza è così minima a livello fisico che è la differenza maggiore a livello psicologico sicuramente ricordo il secondo giro di tale che ho fatto mi ero preparato come allenato tantissimo sul Teide in altura con un run abbiamo fatto più di un mezzo insieme e vedo che io mi allenavo 5-6 ore al giorno SFR 40-20 rulli a digiuno magari rulli a digiuno che a rulli a digiuno erano giornalieri e vedo che Rigo molto tranquillamente mi diceva giovane ma sei sicuro di quello che stai facendo guarda che giro ci dicevi gli ultimi due giorni e io no no mi devo allenare mi devo allenare insomma gli ultimi due giorni Rigo volava io ero tra miraglia ragazzi caput caput engine poi ciò ho finito giro ho fatto 10 giorni di riposo e ho ricominciato a allenarmi come vedo che faceva Rigo con serenità con naturalezza senza stress senza cercare l'estremo che cercavo prima alla volta volavo hai fatto top 10 prima volta ho fatto i miei 10 in un grande giro quali sono i sacrifici che più ti pesano per raggiungere il top di un giro d'Italia per esempio? sì sicuramente sai ormai dopo qualche anno i sacrifici fanno non li senti più perché fanno parte un po' della tua vita appunto diventa un po' un stile di vita siamo portati appunto a trascorrere molto tempo fuori fuori da casa lontano dei nostri amici perciò penso che sì sicuramente una grande mancanza che abbiamo noi a livello sentimentale appunto dei nostri amici e della nostra famiglia però di tua moglie anche beh sicuro poi però siamo fortunati che comunque bene o male ogni squadra quando vai dopo un paio di anni che sei in una squadra riesci a costruirti un gruppo d'amici all'interno della squadra e lavori molto serenamente così qual è stato il giorno esatto in cui ti sei detto beh potrei quasi quasi essere un corridore da tre settimane da classifica di grandi giri ma sostanzialmente è stata quella welter che ho fatto con Talansky no? dopo che ho fatto un'estate che mi allenavo molto poco rispetto ai miei standard ovviamente e sono riuscito da questa welter increscendo ho capito che forse nella mente non è più così importante cioè è importante è fondamentale però anche nel recupero lo eh no? e quindi un giorno la welter è realizzato che forse potrei arrivarsi quasi quasi eh si grazie a Talansky dai grazie a Talansky e a Urano soprattutto soprattutto a Rigoberto Urano era riuscito a mettere una calma interiore che non saremmo riuscito a farlo senza di lui diciamo però quest'anno cos'è il tuo obiettivo? ah vediamo ora siamo qua a prepararsi appunto per il giro comunque il giro il giro è il tuo obiettivo principale anche sai le casche delle Ardenne comunque frecce, liegi qual'è il lavoro specifico che tu fai che preferisci per per andare in forma? ho scoperto che alla fine quello che mi mancava di più erano i picchi perciò a me piace molto fare i 40-20 come sono le 40-20? spiegalo beh non è che mi piace però diciamo che mi fanno bene è quello più redditizio si è pare che sono 40 secondi col sangue alla gola 40 secondi a tutta a tutta e 20 secondi di recupero fermo in mezzo alla strada cioè accompagnando se lo faccio il mio pianto là come pare che vedessi un sacco di patate questo fai per 10 minuti quattro serie e se riesci a farlo ti stingo la mano se no mi paghi una birra ah e quindi dovremmo farlo adesso? dai te lo faccio anche vedere ma siamo in altura un po' dai ti faccio vedere solo la partenza ti faccio vedere solo due colpi dai in altura non andrebbe fatto diciamo no in altura bisogna andare rigorosamente a piano altrimenti vanifichiamo tutti i benefici è solo dimostrativo è solo dimostrativo vinci giochiamo una birra si dai chi molla prima e ciao allora per i 40-20 iniziamo subito rapporto che rapporto usiamo? rapporto libero sostanzialmente qua cioè quello che conta è andare a tutto per 40 secondi esattamente e recuperare però un'altra cosa molto fondamentale è alternarne uno in piedi sui pedali e uno da seduto ok io mi parlo da 53 maranga padella così proprio piena padella piena si dai questa è pedalabile pedalabile giustamente ci sei? ok tre due uno la 40 39 quando eri ragazzino cos'è che ti ha fatto scattare la molla per diventare un ciclista professionista di alto livello? allora io da ragazzino andavo in bici per rubare le pesche ho iniziato ad andare in bici per questo per rubare le pesche si andavo giù a pescantino lo scopo della mente era quello era quello poi crescendo ho iniziato a vedere le prime volte il giro d'italia in televisione e pensavo che i professionisti fossero extraterrestri no? sostanzialmente mia madre nascendo un asino a scuola mi ha regalato un libro di Ivan Basso pur che leggessi qualcosa per farti leggere e lì Ivan nel suo libro parla molto di quando lui era ragazzino dei suoi sentimenti e vedevo che lui esprimeva gli stessi sentimenti che esprimevo io e da lì ho detto ma vuoi vedere che un domani forse anche io diventerò un professionista e da lì mi è mi è nato questo mi si è acceso questa lampadina io voglio diventare professionista io voglio fare il giro d'italia ho un'idea un'alternativa per giocarci la birra di questa sera facciamo che la paga chi arriva ultimo là là? è lontanino ancora eh però pesa per pesa facciamo l'ultima che arriva là a me ne vado solo il mio passo eh ma raga facciamo così vi sono accorciato tiro da due minuti in quanti chilometri? da qua sono 3,2 km io sento che i 16 kg che ho in più non saranno un ostacolo ci credo ci credo ready steady go ma così di cattiveria proprio amico mio mi dispiace guarda qua prepara la carta di credito avevo detto 3 minuti erano 2 3 minuti era prima che mi dispiace che mi dispiace che mi dispiace che che sono andato a prendere le birre visto che hai vinto la scommessa e me visto? si che bello eh comunque non capisco ancora come hai fatto a battermi eh eh il segreto ce l'ho tipo la verità qual è? qualche settimana fa hai girato il video così per andare in salita e io avevo visto che stavo dietro nella birra aperta mi hai battuto con le mie armi praticamente ma Ranca non potrei ma l'ultima birra l'ho bevuta l'ultima dell'anno fai uno sgarro per me eh dopo più di 40 giorni quando mai mi ricapiterà di bere una birra contesta quello è vero e soprattutto di battermi in salita qual è che ti ricapita vai vai po Lets grosso 찰�oster� pi UN�땅 yaş mal pi 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 ؟